È terminata la prima serata di selezioni per la categoria giovanissimi per la nuova rappresentativa Lombarda. E qua con noi Ludovico, mentre vediamo le fasi di allenamento, chiediamo a lui come è andata questa sua serata. Sono molto contento innanzitutto di essere stato chiamato, ho notato che il livello è molto alto e spero che faremo bene nel torneo se in caso verrò chiamato. Grazie Ludovico per l'intervista e ci vediamo prossimamente sui campi. Va bene, saluto i miei compagni e Forza Lombardia. Ed ora siamo con Cristian mentre continuiamo a vedere le fasi di allenamento, anche lui chiediamo un commento su questa sua serata. È stato un buon allenamento, mi sono divertito tanto con i miei nuovi compagni e devo ringraziare il mio mister per avermi dato questa opportunità. Grazie Cristian per l'intervista e ci vediamo prossimamente. Grazie a te Ivan, grazie per la serata e Forza Cardano.